Salve amici di AdventsItalian, in questo video andremo a vedere la prova orale dell'esame PLIDA in livello A2, una prova che dura circa 15 minuti. Andremo a vedere insieme come è composta, come è suddivisa e come rispondere a tutte le parti in modo corretto, facendo ovviamente attenzione al fatto che stiamo parlando del livello A2, quindi non si aspetta un vocabolario molto ampio. Quando si tratta di questo livello, però cercherò di rispondere alle domande anche adattando il vocabolario alle conoscenze che un livello A2 deve avere. Andremo a vederlo tutto nello specifico, quindi questa parte non è oggetto di valutazione, la presentazione dovete presentare voi stessi per circa un minuto e in questa parte non verrete valutati, quindi non prenderete un voto perché dovete semplicemente presentarvi. Questo serve a mettere il candidato a proprio agio e a introdurlo all'esame. Quindi l'esaminatore vi spiegherà come è suddiviso l'esame, si presenterà, vi chiederà di presentarvi e questo servirà a rompere un po' il ghiaccio, quindi a mettervi a vostro agio. Il candidato si presenta brevemente aiutato dall'intervistatore da supporto grafico e testuale, quindi ad esempio potete dire salve, mi chiamo, c'è anche questo supporto qua, io sono Marco, ho vent'anni, vengo da Milano, abito a Milano con la mia famiglia, mia madre, mio padre e mio fratello. Milano è una bella città, molto grande, con molti stranieri, molta vita, una bella città, eccetera, quindi questo è più o meno il vocabolario che si aspetta da un livello a due. Io studio ingegneria oppure lavoro per questa azienda, eccetera. Quindi questa è la vostra presentazione. Poi, prima parte, interazione. Avete circa tre minuti di tempo per svolgere la prova e tre minuti per prepararvi, quindi per preparare quello che volete dire. Si tratta di una interazione a coppie fra candidati, quindi sarete solitamente due studenti lì e dovete svolgere questa prova tra di voi, quindi facendo domande l'uno all'altro, oppure se siete da soli, ovviamente l'intervistatore farà questa interazione con voi, quindi cercherà di svolgere la parte che doveva fare l'altro studente che non c'è. Nell'interazione fra candidati, i due candidati risolvono un compito comunicativo, per esempio si mettono d'accordo su come organizzare una festa sulla base di una scaletta condivisa e di stimoli testuali o visivi. Nell'interazione con l'intervistatore, il candidato risolve il compito comunicativo propostogli dall'intervistatore sulla base di una scaletta e di stimoli testuali o visivi. Quindi, solitamente, in questa parte ci sono delle foto sulle quali vi dovete basare per svolgere la prova, oppure ci sono già le domande alle quali dovete rispondere. Competenza, cosa dovete avere a disposizione per superare questa prova? Allora, descrivere in modo semplice oggetti e cose e fare confronti, descrivere, fare domande su progetti e accordi presi, dire in modo semplice che cosa pensa di una persona o di una situazione, scambiare informazioni sui argomenti familiari, invitare, dare suggerimenti, chiedere scusa, chiedere un favore, offrirsi di fare un favore a qualcuno e rispondere a dati linguistici analoghi, esprimere accordo e disaccordo, chiedere e dare informazioni, fare semplici transazioni per ottenere un bene o un servizio. Quindi sono questioni quotidiane che ogni persona affronta anche da turista in un nuovo paese. Nella seconda parte invece, andremo a vederla più tardi, io propongo di passare direttamente nella prima parte per non confonderci troppo, quindi volete organizzare una festa sorpresa per un vostro amico e ognuno di voi ha avuto delle idee. Il candidato A, quindi uno degli studenti, vuole fare le cose descritte nell'allegato 1, mentre l'altro candidato, l'altro studente, vuole fare le cose descritte nell'allegato 2. Io siccome sono da solo farò entrambi gli studenti, quindi allegato 1, è questo qui, allegato 1. Quindi io voglio fare, dico ciao, ciao, questa settimana abbiamo la festa di Massimo, che compie gli anni e vogliamo organizzare una festa di compleanno per lui. Sì, anche io ho alcune idee. Io propongo di fare la festa in una discoteca. Tu che ne dici? No, a me non va di fare la festa in una discoteca, perché penso che sia meglio farla in un ristorante. Questo è l'allegato 2, l'altro candidato. Perché lì possiamo anche mangiare qualcosa. A Massimo non piace ascoltare la musica ad alto volume. Sarebbe meglio andare in un ristorante, ci mangiamo una pizza e passiamo una serata tranquilla. Poi abbiamo molti invitati e molti di loro potrebbero non amare la discoteca, mentre se andiamo in una pizzeria sono sicuro che la pizza piace a tutti. Potremmo anche organizzare la festa a casa sua. Se non vuoi che andiamo in una discoteca, possiamo organizzare tutto nella sua casa. No, la casa di Massimo è troppo piccola per fare una festa. Noi siamo in molti, quindi non penso sia una buona idea. Sarebbe meglio, se non ci mettiamo d'accordo per la pizzeria, sarebbe meglio farla in un parco, perché i costi sarebbero minori. Non dobbiamo prenotare nessun ristorante, non dobbiamo spendere molti soldi. Possiamo organizzare già le cose che vogliamo cucinare, ma ad esempio preparare la pizza da soli, eccetera. Va bene, allora chiediamo anche agli altri e poi ci mettiamo d'accordo. Invece, per quanto riguarda i regali, io pensavo di regalargli l'ultimo Samsung. A lui piacciono tantissimo i cellulari e potremmo comprargli l'ultimo Samsung. Io non sono d'accordo, dice l'altro studente, perché il Samsung costa 1000 euro e noi siamo 20 persone. Dovremmo mettere tanti soldi a testa per comprarlo. Non vale la pena. Io propongo di comprare qualcosa di meno costoso, come ad esempio delle cuffie Philips, che costano 30 euro. A lui piace tanto correre e ascoltare la musica mentre corre, quindi potremo comprargli queste cuffie e in questo caso dovremmo mettere tutti pochi euro. Sì, può essere una buona idea. Cosa cuciniamo? Io propongo di preparare molti dolci, perché a tutti piacciono i dolci, e qualcosa di leggero, come un'insalata, da combinare poi e da mangiare prima dei dolci, non piatti primi e secondi. I primi e secondi sarebbero la pasta e la carne. No, secondo me sarebbe meglio fare dei tramezzini. Questi sono i tramezzini. Sarebbe un toast tagliato in diagonale. Io propongo di preparare dei tramezzini con diversi ripieni. Uno lo possiamo riempire in modo vegetariano, gli altri con il salame, eccetera, per chi non è vegetariano. E potremmo anche preparare la pasta. No, secondo me la pasta non è una buona idea, perché quando si raffredda non si può più mangiare. Potremmo farla se la organizziamo a casa, quando è pronta è da mangiare subito, mentre se siamo in un parco bisogna trasportarla da casa e se la trasportiamo non si può più mangiare perché si raffredda. Questo era la numero uno. Sarebbe il dialogo che dovreste fare voi e l'interlocutore oppure l'altro studente. Quindi abbiamo detto dove fare la festa, scegliendo tra le varie foto che c'erano, cosa regalare tra smartphone e cuffie e cosa cucinare. Adesso dobbiamo anche vedere la seconda parte. Nella seconda parte che dura anche qui in totale sei minuti, però dovrete parlare solo tre minuti perché gli altri tre minuti sono preparazione. Quindi avrete il tempo di guardare le foto, di ragionare, di pensare a quello che dovete dire, ovviamente anche di identificare le foto perché bisogna dire smartphone, cuffie, eccetera, pizza, tramezzino, ma se non sapete una parola provate a trovare un sinonimo. Ad esempio, molti stranieri potrebbero non conoscere la parola tramezzino, potrebbero dire facciamo i toast oppure facciamo dei panini o dei sandwich. Non è un problema. Qui si tratta di un'intervista. Il candidato sceglie uno dei temi proposti e risponde alle domande dell'intervistatore aiutandosi se ne ha bisogno con i materiali forniti dall'intervistatore. Quindi avrete anche qui dei materiali, delle foto e dovete svolgerla con l'intervistatore che sarebbe l'esaminatore, colui che organizza l'esame, non più tra studenti. Rispondere a domande semplici su persone, abitudini, lavoro, tempo libero, attività fatte ed esperienze personali. Esprimere in modo semplice gusti, preferenze, stati d'animo, eccetera. Quindi stati d'animo, come vi sentite, preferenze, cosa vi piace, cosa no, gusti, a me piace il rosso, all'altro piace il blu, il giallo, il verde, eccetera. Sono gusti. Oppure a me piacciono i dolci, a un altro piacciono le cose salate, le pizze, eccetera. Sono gusti. Ci siamo presentati, abbiamo fatto la seconda, la terza adesso, la terza parte è l'intervista. Tre minuti di preparazione, quindi da solo, cosa vi piace fare, cosa vi piace fare in compagnia, lavori, in casa, eccetera. Allora, dovremmo fare l'allegato numero tre, sarebbe questo foglio qui. Però se prima vi va di rispondere in generale a quello che vi piace fare, potremmo anche farlo, analizzando queste foto, perché potrebbe capitarvi all'esame. Ad esempio, potete dire, quando sono da solo, mi piace cucinare, mi piace preparare la pasta o i dolci. Mi piace anche andare in bici, mi piace leggere un libro, mi piace quando sono in compagnia, mi piace andare a prendermi un caffè o a bere una birra con i miei amici, mi piace andare al centro commerciale, o mi piace andare al parco e organizzare un picnic. Che tipo di lavori faccio a casa? Beh, siccome sono uno studente che sto molto tempo via, quando il fine settimana mi trovo a casa, mi piace pulire la casa, devo sistemare il disordine, quindi questo sarebbe passare l'aspirapolvere, lavare la cucina o i vetri e occuparmi del giardino, quindi sistemare il giardino, curare i fiori, eccetera. Qui invece abbiamo una sorta di programma dove dovremmo andare rispondendo, tenendo presente queste parti che ci descrivono il programma per poi organizzare la conversazione, quindi 60 euro, giardini di Ninfa, castello di Sermonetta, 26 maggio, sabato, la quota comprende autobus, Gran Turismo, Roma, giardini di Ninfa, Sermonetta, andata e ritorno, biglietto di ingresso ai giardini e visita guidata, pranzo completo, acqua, vino e bevande incluse in un ristorante tipico, quindi oltre a quello che mangerete anche le bevande, quello che berrete sarà compreso nel prezzo, quindi non dovete pagare prezzi aggiuntivi semplicemente i 60 euro, biglietto di ingresso al castello e visita guidata, oltre a vedere il castello avrete anche una persona che vi spiegherà cosa state vedendo, una guida turistica, programma alle 8 meno un quarto o alle 7 45 appuntamento a piazza del 500 Roma, partenza con il pullman alle 8, alle 10 l'ingresso ai giardini di Ninfa, alle 12 pranzo al ristorante il caminetto, alle 1 e mezza partenza per Sermonetta, 3 e mezza visita al castello di Sermonetta, 5 e mezza partenza da Sermonetta, quindi torniamo indietro, abbiamo visto il castello e ce ne andiamo e rientriamo a Roma alle 20, alle 8 di sera, quindi piazza dei 500. Prenotazioni entro il 30 aprile, minimo partecipanti 20 persone, cosa significa? Prenotazioni entro il 30 aprile significa che il primo di maggio non si può più prenotare, è già tutto chiuso, minimo dei partecipanti significa che se non sono 20 persone il viaggio non si organizza, perché non vale la pena per coloro che lo organizzano, i costi non sono non sono abbastanza sostenibili da fare, da organizzare il viaggio anche con meno di 20 persone. Quindi potremmo dire, vediamo se abbiamo anche le domande qui, se abbiamo già le domande ma non penso, o magari sono dopo nell'ultimo foglio, no. Quindi probabilmente si tratta di basandosi su questo su questo testo potremmo dire sotto forma di conversazione Ciao Marco, cosa facciamo durante le vacanze? Beh, io pensavo di andare a visitare i giardini di Ninfa a Castello di Sermonetta quando? Sabato il 26 maggio 2018. Ah, perfetto, siamo tutti liberi in quel periodo lì, abbiamo finito le lezioni, ci prepareremo per gli esami universitari di giugno e luglio quindi potremmo anche andare a fare questa gita. Ma ti sei interessato riguardo i prezzi? Sì, certamente tutto costa 60 euro. Ah, 60 euro, cosa comprende? Beh, comprende il viaggio, il biglietto d'ingresso nei giardini, il pranzo completo, bevande incluse e anche il biglietto d'ingresso al castello con la visita guidata. Ah, perfetto, sembra un'ottima idea. E sai più o meno anche gli orari? Sì, è tutto organizzato molto bene, ho già il programma, te lo mando anche via mail così possiamo anche darlo agli altri. partiamo alle 7.45 poi da piazza dei 500 e ritorniamo lo stesso giorno alle 8 di sera sempre in piazza dei 500. Alle 8 parte il pullman quindi dobbiamo essere lì 15 minuti prima alle 10 entriamo nei giardini alle 12 facciamo il pranzo alle 1.30 partiamo per Sermonetta alle 3.30 visitiamo il castello e poi alle 5.30 partiamo da Sermonetta e tra due ore circa siamo a Roma quindi alle 8.00 Perfetto, a me sembra un viaggio molto interessante poi 60 euro considerando anche il pranzo con vino bevanda eccetera sembra veramente un prezzo imbattibile o un prezzo veramente interessante sì anch'io pensavo la stessa cosa però c'è solo un problema che problema il fatto è che dobbiamo prenotare entro il 30 di aprile quindi perché loro hanno bisogno di alcune settimane per organizzare il viaggio quindi passeranno tutto il mese di maggio ad organizzare il viaggio e per questo entro la fine di aprile quindi il 30 di aprile dovremmo aver già prenotato ottimo io conosco già alcuni miei amici che potrebbero venire 5 6 abbiamo anche qui un altro problema un altro problema sì purtroppo il viaggio non si può organizzare se non siamo in 20 serve un minimo di 20 persone per organizzare il viaggio perfetto beh allora potrei magari suggerire il viaggio anche a qualche mio parente cugino eccetera non solo agli amici universitari se siamo meno di 20 sì se siamo ad esempio 10-15 ognuno di noi potrebbe provare a prendere qualche cugino o amico che non è amico in comune tra di noi quindi non compagno universitario e possiamo superare la quota dei 20 magari anche 30 potrebbe andare bene l'importante è essere almeno 20 persone sì perfetto sarebbe un'ottima idea parlerò con gli altri e ci organizzeremo va bene ottimo d'accordo allora ci sentiamo più tardi chiamami se hai un'idea di quante persone saremo lì grazie grazie ciao quindi questo è più o meno un tipo di esame che potreste svolgere ovviamente qui in questa parte potrebbe sembrare più difficile però non lo è perché avete la possibilità di leggere già tutto perché se vi dirà quanto costa direte 60 euro cosa comprende autobus basta leggere questa parte qui e il programma qui ovviamente bisogna conoscere bene l'ora potete anche dire 745 oppure 8 meno un quarto io vi consiglio di leggere solo i numeri perché è più facile quindi 745 alle 8 alle 10 12 13 e 30 15 e 30 17 e 30 20 siete più tranquilli e anche qui quando dobbiamo prenotare entro il 30 di aprile quante persone devono partecipare minimo 20 persone cercate di prestare attenzione alle domande che vi fanno cercate di prestare attenzione anche alle foto perché bisogna sapere bene quello che state guardando se non ci se non capite qualche parola oppure se non conoscete qualche oggetto come ad esempio le cuffie provate a trovare un sinonimo ad usare una parola in inglese ad esempio potete anche non dire che sono cuffie philips ma ad esempio dire compriamo le nuove headphone bits uscite un mese fa che costano 300 euro oppure qui ad esempio potete dire queste sono le penne potete semplicemente dire pasta oppure potete dire maccheroni spaghetti l'importante è non dire pizza perché non si tratta di pizza però qui potete dire penne spaghetti pasta fusilli tagliatelle eccetera quindi tutto quello che ha a che vedere con la pasta così come qui l'insalata è una parola che si conosce però potreste anche dire antipasti facciamo degli antipasti qui se non sapete dire dolci potete dire cuciniamo qualche torta il gelato dolci tiramisù potete dire una parola che conoscete che è effettivamente un dolce perché qui vediamo che sono solo dolci quelli che vediamo anche qui potete dire telefonino cellulare smartphone qui discoteca festa party questa è una casa quindi qui penso che non ci siano problemi per identificarla ma più o meno si può rispondere anche qui leggere un libro riflettere usare la bici la mountain bike curare il giardino i fiori è facile trovare un sinonimo il fatto dei sinonimi è molto importante perché dovete cercare di trovare identificare l'oggetto che c'è nella foto e se non sapete la parola il sinonimo vi aiuta a far capire all'interlocutore o all'esaminatore che voi comunque sia sapete cos'è quell'oggetto lo sapete identificare se invece dite che ne so telefono qui magari potrebbero anche confonderlo con il telefono che c'è a casa quindi quello fisso quindi prestare attenzione agli oggetti è molto importante qui perché alla fine si tratta del livello A2 si aspetta un vocabolario non molto avanzato e quello che dovete fare è semplicemente più o meno identificare gli oggetti e organizzare frasi semplici questo era tutto quello che vi volevo dire vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video ciao